La bomba atomica. Questo è quello che ci viene in mente quando pensiamo a una grossa esplosione. Indipendentemente dai pensieri e dai sentimenti che ci evoca, è un perfetto esempio per capire un importante fenomeno, l'onda d'urto. Nel film Oppenheimer di Christopher Nolan è possibile vedere come è nata la bomba atomica e gli effetti devastanti che provoca. Il film è ancora al cinema quindi se volete siete ancora in tempo per vederlo. Quando una bomba atomica esplode libera una quantità immensa di energia in un brevissimo lasso di tempo. Questa energia si propaga nell'aria creando una rapida variazione di pressione. Il suono stesso è pressione e depressione dell'aria. Questo rapido cambiamento di pressione si muove attraverso l'aria come un'onda e non è troppo diverso dalle onde che vediamo sull'acqua quando ci lanciamo un sasso. Ma le onde d'urto ovviamente sono molto più potenti e devastanti e distruggono quasi tutto ciò che incontrano nel loro cammino. Le onde d'urto non sono esclusive delle bombe atomiche ma possono essere create da qualsiasi esplosione, un tuono o il decollo di un razzo ad esempio. Quando un aereo volando a bassa quota supera la velocità del suono, quindi rompe il muro del suono, noi da terra sentiamo come un boato perché è un oggetto che si sta muovendo in maniera supersonica. Questo fenomeno è noto come bang sonico. Ci ho fatto un video circa due anni fa, vi lascio il link in descrizione. E' importante ricordare che al di là delle armi le onde d'urto hanno particolari applicazioni positive in ambito medicina e ingegneria. In medicina le onde d'urto vengono utilizzate ad esempio per rompere i calcoli renali e in ingegneria vengono usate per progettare veicoli supersonici. La prossima volta che sentirete parlare di onde d'urto spero che oltre che a pensare alle bombe atomiche, pensate anche a tutto quello che ci gira attorno alla scienza e alle importanti scoperte e applicazioni che ci sono. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale. Grazie, a presto!